Roma, Bruxelles, andate e ritorno, la rubrica di micro e macro dedicata all'Unione Europea. Quest'oggi parliamo del Parlamento Europeo per il quale i cittadini europei saranno chiamati a votare il 25 maggio. La settimana importante per quanto riguarda l'Europa si voterà domenica il 25 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo. A suo modo di vedere vinceranno i nazionalismi come molti temono oppure non andrà così? La linea di tendenza sicuramente porta verso questo risultato, ma io direi più che i nazionalismi, gli anti-europeisti in qualche modo. Anche se, l'ha già notato qualcuno, per la prima volta si parla di Europa. Quindi anche se in negativo, mentre noi specialmente in Italia eravamo abituati a campagne elettorali tutte concentrate sul fatto interno, oggi poco la crisi economica che c'è, il problema dell'euro, il problema della rigidità che questa moneta ha, e dei guasti che provoca in alcune economie come la nostra, sicuramente impongono una riflessione sull'Europa. È anche possibile che pur prevalendo probabilmente in alcuni paesi dei partiti, quelli meno inclini verso l'Unione Europea, poi però si recupererà, secondo me, una forma anche di saggezza, se vogliamo, perché poi tra la campagna elettorale, quello che si dice, e quando invece poi concretamente si vanno a affrontare i problemi, in genere anche nelle forze più estremiste c'è, come dire, prevale anche una logica, diciamo, più moderata in qualche modo. Forse questo potrebbe aiutare anche a risolvere delle palesi storture del sistema europeo, la polemica che si fa sulla doppia sede, sulla tripla sede, che è uno spreco di soldi veramente mostruoso, probabilmente l'ingresso di gruppi politici nuovi che non ci sono stati prima potrebbe anche indurre a un risanamento parziale della situazione e forse anche ad affrontare dei grandi temi che sono la ricontrattazione del sistema monetario, per esempio, qualche passo in avanti verso l'unione politica, altrimenti veramente diventa un esercizio quasi inutile, oppure si rimane nell'area di libero scambio che funziona bene per tutti, ma allora non c'è più la moneta unica, oppure c'è una moneta che diventa solo un elemento di riferimento, poi ognuno si regola secondo parametri propri. Professore, ha anticipato un po' la mia seconda domanda, vista l'Europa così com'è, che non funziona sotto molti aspetti, forse sarebbe quasi auspicabile che arrivino a Bruxelles non solo forze politiche che vogliono cambiarla, questa Europa. Io direi che questo dovrebbe essere un input che dovremmo dare a tutte le forze politiche, sia a quelle tradizionali che c'erano, sia a quelle nuove che entrano, perché tra le altre cose, e non va nemmeno drammatizzato, siccome ormai ci sono molti anni comunque a partire dalle prime forme comunitarie, la cieca, l'euratom, eccetera, fino poi alla comunità europea, per arrivare all'attuale Unione Europea, che intanto si è allargata, con paesi nuovi, c'è stato il crollo alla fine del comunismo, quindi paesi che hanno dovuto ricostruire la loro economia, paesi che bustano alla porta, come oggi è la Serbia, come è in un processo di questo genere, probabilmente altri, c'è stata la vicenda anche dell'Ucraina che è sotto gli occhi di tutti, voi ne avete già parlato ampiamente, quindi diciamo che tutti dovremmo volere che senza alterare il discorso di una unificazione europea che ormai si impone anche nei fatti, nella globalizzazione, che però alcuni meccanismi, molti anzi i meccanismi vadano rivisti, ripensati e tornare a ragionare su quello che è lo sviluppo economico, su quello che deve essere una forma anche di governo, diciamo federale, ma che metta insieme le esigenze di tutti, non solo di alcuni paesi. I cittadini europei saranno chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo, questo Parlamento europeo incide abbastanza a livello di politiche comunitarie oppure no? Molti dicono in realtà decidono tutti e decidono tutti i capi di Stato e di governo dei paesi membri, mentre il Parlamento europeo sostanzialmente fa poco. Anche qua è come una medaglia che ha due facce, il Parlamento europeo sicuramente ha avuto una grande funzione nelle affermazioni di principio, nelle grandi affermazioni di principio, nel campo della democratizzazione dei paesi, nel dare le indicazioni, quindi su questo piano sicuramente ha svolto un ruolo positivo. Poi certo c'è quello che lei ha richiamato, che poi decidono solo i capi di governo e soprattutto spesso da questo Parlamento escono o questo Parlamento si applica ad elaborare normative che a volte sono risibili.